Siamo qui con il professor Antonio Longo, chirurgo ed esperto in colon, proctologia e patologie pelviche. Professor Longo, lei è l'inventore dell'intervento per la cura delle emorroidi più diffuso al mondo, perché in dolore, ed è l'unico intervento per la cura della stitichezza. Sostiene che si tratta di due malattie che hanno molto in comune. Vuole spiegare in maniera semplice il suo concetto? Sì, allora, precisiamo che tutti nasciamo con le emorroidi, che sono tre piccoli cuscinetti pervescolarizzati posti all'interno del canale anale e che, gonfiantosi e sgonfiantosi, perfezionano la continenza anale. La patologia comincia quando le emorroidi fuoriescono all'esterno, come si suol dire, prolassano. Inizialmente prolassano durante l'evacuazione e rientrano spontaneamente. Successivamente è necessario l'aiuto manuale dei pazienti per rientrarle, ma in una fase successiva non rientrano più e stanno perennemente all'esterno. I sintomi quali sono? Può essere il bruciore, può essere il prurito, oppure può essere, delle volte, un forte dolore per giorni, perché, come si suol dire, si strancolano all'esterno. Che significa? Significa che fuoriuscendo non viene più drenato il sangue, quindi trompizzano l'emorroide e si forma un edema, un edema duro che è molto doloroso e questo persiste per alcuni giorni e quindi si chiama questo strangolamento emorroidario. Qual è la correlazione con la stitichezza? Io ho dimostrato che quando si ha un prolasso emorroidario, al prolasso emorroidario si associa il prolasso della mucosa rettale. Il problema era capire se erano le emorroidi che tiravano giù la mucosa rettale o era la mucosa rettale che spingeva fuori le emorroidi. Ho dimostrato che prima si forma un prolasso interno, rettale interno, che causa stitichezza o può causare stitichezza e questo spiega la correlazione che spesso c'è tra pazienti che soffrono sia di stips che di emorroidi. In che cosa consiste questa stitichezza? I pazienti avvertono raramente la sensazione per evacuare, hanno necessità di sforzarsi, delle volte hanno una sensazione di incompleta evacuazione e quindi delle volte le donne ricorrono anche alla cosiddetta digitazione perché le donne formano anche un retto cele, spesso che è una sacca del retto che spinge in avanti la vagina. E questo è importante dirlo perché moltissimi pensano di risolvere il problema assumendo giornalmente lassativi, ignorando i gravi danni che fanno i lassativi. Purtroppo vengono sottaggiuti e quindi le persone abusano di lassativi. Ma il 90% delle cause di ostruita, di affecazione, così come si chiama, di stitichezza è proprio il prolasso interno del retto. Quindi è questo prolasso rettale interno che causa sia il problema emorroidario che la stitichezza. Come si cura? Esattamente. Curando o resecando questo prolasso rettale interno, le emorroidi risalgono nella loro sede e quindi non si asportano. La sutura è in una regione indolore, quindi l'intervento è indolore. Quindi con un unico intervento noi curiamo sia il prolasso emorroidario sia la stipsi. Alcuni presenti hanno solo il prolasso interno senza il prolasso emorroidario, quindi hanno solo la stipsi, altri hanno solo il prolasso emorroidario senza avere la stipsi, ma spesso le patologie sono associate. L'intervento viene fatto per via transanale, quindi non è doloroso, non si fa nessuna incisione, la cucitura avviene con delle micro clips che vengono espulse e quindi i pazienti dopo due o tre giorni possono ritornare alle loro normali attività. Bene, ringraziamo il professor Antonio Longo e diamo appuntamento ad una nuova intervista dell'agenzia di stampa Italpress.